Settiamo un bel urlo, 1, 2, 3, Fai! Ma che era l'uno questo? Era un urletto, l'urlo è diverso, è una cosa più potente, più profonda, urlo libero! E suoni non sono tutti i suoi tratti, quando hai bisogno di avere un po' di testa, quando hai bisogno di avere un po' di testa, quando hai bisogno di avere un po' di testa. E di più o... Provanzano! Antinutò il tuo apporto, il tuo apporto un'esercizio e salvo con il nostro studio e allora cominciamo subito alla grande le doveri per il suo abito le doveri per il suo seno e allora con lui D.C.R.U.N.E. Sera tu e sono il cuore e sono il cuore D.C.R.U.N.E 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 D.C.R.U.N.E